Questa matassa dell'alberghiero resta molto ingarbugliata, voi siete contrari credo al trasferimento però? L'ultima butade del consigliere provinciale Palozzi e dell'assessore regionale Di Matteo credo che ha del folle, è una follia, è una follia pensare di trasferire l'alberghiero fuori da Pescara per una serie veramente interminabile di motivi. Il primo che è un trasferimento di questo tipo va totalmente a scapito dei docenti, dei 350 docenti dell'istituto. Poi ci sta da considerare ovviamente i grandissimi disagi a scapito di tutti quanti gli alunni che ricordo sono oltre 1860. In più c'è da dire che questa decisione va anche in controtendenza rispetto agli investimenti che sono già stati fatti. Io vorrei ricordare che all'alberghiero di Pescara si sta trasformando una palestra per adibirla in laboratori. Questa è un'opera che costa ben 2 milioni 860 mila euro. Che fine faranno questi 2 milioni 860 mila euro se domani l'alberghiero non starà più in quella sede di Via dei Sabini? Sono soldi buttati. Idem cum patatis per tutti quanti gli investimenti fatti al cupari di Alanno. Questa è una decisione, un'idea, un progetto, non so neanche come definirlo, che non può camminare, veramente non ha le gambe per andare avanti.